Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archevi Parla, e ieri sera Traerka ha fatto un aggiornamento per Cold War aggiungendo la remastered per Jungle sul multiplayer, l'operatore della ZAR della campagna e proprio nel suo bundle da poter acquistare anche una nuova mitraglietta SMG chiamata UGR. Ovviamente questa è sbloccabile tranquillamente sul multi e su zombie con una sfida apposita e fortunatamente la sfida di zombie è molto molto tranquilla e rapida. La sfida in sé ha infatti mille uccisioni di mitragliette rarità epica o leggendaria che per chi come ha finito tutti gli easter egg e ha preso la ricompensa è la rarità con cui si può spawnare, per cui praticamente mille kill fin da subito. Ovviamente per chi non ha queste ricompense o non ce le ha complete e quindi spawna con l'arma verde o blu consiglio comunque una stat simile a quella che ho fatto io. Io ho fatto due partite intere nella first room di Rinnegato dove lo spawn è molto veloce e comunque appunto con l'arma viola gli zombie vanno giù molto in fretta. In una partita circa facevo 520-530 uccisioni morendo intorno al round 18-19 questo appunto con l'arma direttamente viola ma anche senza possiamo comprarci percezione della morte, farci tanti materiali e un bellissimo arsenale ci permetterà di potenziare la rarità dell'arma. Se non vi piace Rinnegato o la stati in first room comunque può dare problemi più avanti vi consiglio una classica di machine strat attico potenziatevi un attimo l'arma o acquistate la muro a rarità più alta e fate appunto queste mille uccisioni di mitraglietta che a me ha richiesto circa 22 minuti rapidissimo per qualcun altro che non ha la stessa rarità magari può richiedere 45 minuti un'ora comunque non un tempo mastodontico. Non ho dei consigli molto specifici per quanto riguarda quale mitraglietta utilizzare io in questo caso ho utilizzato l'MP5 con un progetto sbloccato ma tranquillamente un PPSH, un LAPA vanno tutte quante benissimo quasi tutte le mitragliette sono molto simili e comunque hanno un ottimo danno. Io ho sbloccato la mitraglietta ma ancora non l'ho provata per bene al 100% anche perché come sempre va livellata e vanno sbloccate un tot di cose solitamente se l'arma base è forte e con gli accessori giusti sarà fortissima se di base è mediocre e con gli accessori giusti sarà abbastanza buona stessa cosa che è successo un attimo con il Vargo 52 che già di base non era male e con gli accessori giusti era parecchio forte non una delle armi più forti in assoluto ma sicuramente un'ottima aggiunta e fa piacere come sempre tornare su Cold War per fare altre sfide sbloccare altre armi, livellarle e come sempre nel mio caso aggiungerò la collezione di tutte quante le armi con il massimo del livello tutti gli accessori, tutte le imetiche e i distintivi. quindi per chi torna su Cold War come me per fare queste cose è andata a sbloccare questa mitraglietta e a utilizzarla e per chi gioca il multi ha anche la remastered di Jungle aggiunta in rotazione e c'è anche la playlist 24-7 purtroppo per il bundle di Lazar è soltanto un bundle da poter acquistare e nessuna sfida per sbloccare l'operatore e in tutto questo un grandissimo F per Ravenov che secondo i leak probabilmente non arriverà mai perché ci sono comunque delle problematiche di cui non è meglio discutere o comunque questo non è il logo adatto perché tutto quanto è stato completamente rimosso anche dai leaker che avevano beccato invece tantissime altre cose di Lazar stesso o altri bundle quindi probabilmente non vedremo mai il bellissimo Ravenov con la sua giacchetta Gucci di Omega che dove in realtà già arrivare secondo me durante gli strike di epidemia sarebbe stato un fantastico operatore con tante belle battute. Qui ragazzi per quanto minuscole sono comunque delle piccole aggiunte per Cold War armi in più da poter utilizzare e belle in rotazione a questo punto non so se siamo a livello di Black Ops 4 con tipo 60 armi ma se ricordo ci sono tipo 10 assalto o addirittura 12 10 o 11 mitragliette il numero aumenta veramente in fretta anche se sono meno armi del solito rispetto alle vecchie season dove ne aggiungevano anche 3 o 4 ogni singola volta. Fatemi quindi sapere chi sta tornando su Cold War per utilizzare questa arma per sbloccarla, acquistare il bando di Lazar, giocare al multiplayer o zombie fa veramente strano per questa giunta di Lazar come operatore che un pochino per com'era Ravenov è molto molto in ritardo considerando specialmente che Lazar era direttamente nella campagna al lancio del gioco. Il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile il post originale di Treyarch per questo aggiornamento con anche i dettagli del blog sono qui sotto in descrizione trovate anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio Ala